26 anni fa il tragico evento, oggi Giuseppe Del Monte, 46 anni, gira per le scuole per sensibilizzare i giovani sul tema della violenza di genere. Qual è il messaggio ai giovani? Il messaggio che voglio portare ai giovani è l'importanza della parità di genere, l'importanza di far emergere la violenza e oggi ho la possibilità di farlo qui a Galarate insieme ai giovani, insieme alle famiglie, ai genitori e insieme al corpo insegnanti. Finalmente scuola e famiglia si incontrano e cerchiamo di capire come poter agire ma soprattutto la sinergia che deve esserci tra la scuola e la famiglia può fare la differenza. Loro e gli adolescenti sono il nostro futuro e io credo molto in un cambiamento culturale e questo può avvenire solo se tutti quanti ci si trova e si discute su questo argomento che ormai è divagante e quindi bisogna interrompere sicuramente questo processo. Ecco l'ha detto anche lei è un tema purtroppo molto attuale, quale potrebbe essere il cambio di passo giusto per andare verso una soluzione? Il cambio di passo è sicuramente parlarne. Io cerco di dare ai ragazzi dei campanellini d'allarme, di riconoscere la violenza. La violenza non è solo quella fisica, non è solo il femminicidio. Il femminicidio è la punta dell'iceberg ma sotto c'è tutta una serie di violenza psicologica che non è visibile ma può essere fermata, può essere intercettata e oggi cercherò insieme ad altri esperti come la presidente di Telefono Donna a dare delle indicazioni su come portare a emergere questi campanellini d'allarme. Un tema che va affrontato non solo da un punto di vista della sensibilità ma anche da un punto di vista normativo, riferimento che va alla legge del 2018. Qual è il suo messaggio? Io mi occupo anche di tutela dell'orfano di femminicidio. In Italia esiste una legge, la numero 4 del 2018, una legge che però a parer mio ha molte criticità, fa un po' acqua da tutte le parti. Oggi mi batto affinché questa legge diventi più fruibile e accessibile a tutti questi orfani perché la presa in carico dell'orfano deve essere fatta immediatamente. Questa legge purtroppo non lo fa e quindi un'altra delle mie missioni è quella di portare all'attenzione della politica. Il fatto che questi orfani vanno assolutamente presi in carico il giorno dopo l'omicidio.